Ciao ragazzi, sono Marco Sentieri e sono qui per mandarvi un abbraccio virtuale a tutti, partendo dal vostro prof di musica, il prof Magni. Ci siamo sentiti in privato, so che lui vi fa ascoltare Billy Blue e state anche lavorando ad un qualcosa, che poi sicuramente vorrò vedere o vorrò ascoltare. Quindi l'abbraccio fortissimo e virtuale va per tutta la seconda A, la terza A, la seconda B e la terza B dell'istituto La Sorgente a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ragazzi, stringete i denti, tenete duro e ricordatevi, siamo tutti Billy Blue, no al bullismo, da Marco Sentieri. Vi auguro una buona vita. Ciao a you!